Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come La Giffina ha subito l'affondo dell'ex moglie del suo attuale marito Che cosa ha dichiarato la donna? Ecco tutti i dettagli su questa vicenda Giaele Dedona è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip La 23enne ha fatto il suo ingresso nella casa lo scorso 19 settembre insieme a tanti altri inquilini della residenza più spiata d'Italia Il reality show, va in onda su Canale 5 il lunedì e il giovedì, vanno in scena le due dirette settimanali Alla conduzione del programma c'è Alfonso Signorini per il quarto anno di fila Ma che cosa ha dichiarato l'ex moglie dell'uomo di Giaele? Quali parole forti ha usato nei suoi confronti? Ecco tutto quello che ha detto la donna in una intervista rilasciata nelle ultime ore Le parole al veleno contro Giaele Dedona.Giaele Dedona è nata a Conegliano Veneto, il 13 ottobre del 1998 La ragazza è molto conosciuta su Instagram e ha una grande passione per la moda A Milano lavora come stilista ed è anche imprenditrice, dal momento che produce alcuni abiti Nell'aprile del 2020, la ragazza è salita alla ribalta per la sua partecipazione nel docu-reality di Reantime, Ti spedisco in convento L'influencer è sposata da qualche tempo con un ricco imprenditore americano di nome Brad Fortbeck Alcune settimane fa, hanno fatto discutere le confessioni della ragazza sul loro rapporto basato sulla libertà e sull'amore libero Ma cosa ha dichiarato l'ex moglie dell'imprenditore? Quali pesanti parole ha usato? Ecco cosa è successo L'affondo.Il marito di Giaele è stato sposato in passato con una modella brasiliana di nome Teli Godoi Al settimanale nuovo la donna non le ha mandate certo a dire al suo ex marito Ma il suo affondo si è registrato anche nei confronti della nuova moglie dell'imprenditore americano Ecco le parole usate dalla sudamericana, la verità non è quella che Giaele dice in tv Lei mente sull'amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato, lui era sposato con me e lei lo sapeva bene Il nostro matrimonio è finito a causa sua. La modella è stata informata del tradimento del marito da una misteriosa telefonata Nel corso dell'intervista, ha rivelato altri aneddoti sulla vippona e sull'uomo, mi tradiva da due anni Penso che lui e Sofia siano fatti l'uno per l'altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice Se non avessi ricevuto quella telefonata probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video